No umbrina, no petrolizzazione, non si ferma la marcia abruzzese e così lo scorso 30 agosto a Lanciano si sono riuniti in assemblea tutti i rappresentanti di comitati e gruppi che fino ad oggi hanno operato per scongiurare il tanto temuto rischio trivellazioni. Oggi il piano prevede quattro punti cardine da presentare ai diversi organi istituzionali. Una di carattere regionale è la proposta di istituire un parco regionale costiero del mare. Questa possibilità ce lo dà la legge, la Regione Calabria l'ha fatto più volte in passato e non è stata mai impugnata dal Governo centrale. Lo proporremo ovviamente a tutti i consigli regionali nella speranza che appunto se hanno la volontà sincera di fermare Umbrina è una possibilità. Ovviamente se questo parco si riesce a costituire prima del sì definitivo al progetto Umbrina. Poi c'è un'iniziativa di carattere parlamentare a livello nazionale, una proposta di leggere che la Regione può fare, la Costituzione prevede che le Regioni possano presentare un disegno di legge, una proposta di legge nazionale alle Camere dove si chiede l'abrogazione di una parte dell'articolo 35 che ha riassumato come sapete il progetto Umbrina e tutti gli altri progetti dentro le 12 miglie. Poi c'è il ricorso al TAR che già i comuni stanno predisponendo, il Comune di Vasto ha già iniziato l'Iter, il Comune di San Vito, il Comune di Rocca San Giovanni, la provincia di Chieti. Aspettiamo con ansia che la Regione faccia altrettanto, con forza però, senza tentamenti come in passato è avvenuto. Ovviamente c'è anche una, sono tante le iniziative popolari, pubbliche che noi come coordinamento proporremo, non ultimo abbiamo chiesto alla Regione di farsi invitare, di farsi comunicare quando ci sarà la riunione della conferenza di servizi nazionale affinché anche i cittadini abuzzesi possano andare eventualmente a Roma a manifestare il loro dissenso.